Binotto ha fatto delle dichiarazioni che dobbiamo commentare insieme, perché ha detto che lui se fosse stato invasor non avrebbe preso Hamilton per il 2025 in Ferrari. Vediamo le motivazioni, ma soprattutto voglio dirvi la mia in merito, perché ha detto che Leclerc dovrebbe essere al centro del progetto di Ferrari e vorrei chiedere a Binotto, ma lo è stato nella tua era quando sei stato tutti in Principal di Ferrari? Perché c'è un po' di incoerenza nell'aria, però andiamo a vedere questo tema, quindi parliamo di Binotto, abbiamo fatto anche la scelta che vogliono fare in Audi Sauber di prendere Mick Schumacher e parliamo anche delle volontà di Vasseur con Leclerc, perché Vasseur ha parlato con Leclerc della possibilità di prendere Hamilton e Leclerc lo ha rassicurato in merito, quindi ha ricevuto anche la conferma, se vogliamo, il pilota monegasco che si poteva prendere Hamilton in Ferrari e che sarebbe stato anche di grande aiuto per la squadra per migliorare ulteriormente e andare a lottare per il titolo nei prossimi anni. Quindi parliamo di tutto questo nel dettaglio, prima come sempre like e iscrizione per supportarmi nei video che faccio ogni settimana tema auto e Formula 1, parliamo di tutte le notizie nello specifico di Ferrari, ditemi nei commenti secondo voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Binotto, se sono inappropriate oppure se secondo voi hanno la loro motivazione, siete d'accordo o meno con il team principal di Audi e in più voglio anche chiedervi cosa ne pensate della mossa di aver preso Hamilton in Ferrari, voi l'avreste preso per il 2025 oppure avreste preso un altro pilota, vi chiedo anche chi. In più dobbiamo vedere dopo anche delle dichiarazioni di Sainz che si è espresso in merito alla questione Hamilton e soprattutto le dichiarazioni di Binotto. Tra l'altro nel corso del video dobbiamo parlare anche della Race Week che c'è questa settimana a Austin in Texas e quindi dobbiamo parlare degli aggiornamenti di team ma soprattutto le decisioni in casa Red Bull, di cosa è successo l'anno scorso a Austin e facciamo un po' un recap generale, non è il pre-GP ma voglio darvi qualche anticipazione per questo fine settimana. Partiamo dall'articolo del Corriere, vi prendo proprio l'estratto e vediamo cosa ha detto Binotto in merito, alla domanda Hamilton alla Ferrari lo avrebbe preso, Binotto ha risposto no ma lui ha fatto molto bene ad andare alla Ferrari, condivido la sua decisione, quindi condivido la decisione di Hamilton ma non quella di Vasseur di aver preso il pilota inglese. Perché no? Perché la Ferrari va puntato su altri piloti e se il talento è Leclerc è lui che in qualche modo, credo, vada accompagnato all'obiettivo. Questo è quello che ha detto Binotto dopo quello che abbiamo vissuto con Vettel e Leclerc come compagni di squadra e con Sainz voluto da Binotto accanto a Leclerc ma lo commentiamo dopo. Poi si è chiesto chi vincerà questo mondiale, Vestappen in titolo piloti, McLaren quello costruttore si è sbilanciato, Max è ancora il più forte, sì lo sta dimostrando anche con una macchina meno efficace di altre. Però detto questo, parliamo di quello che ha detto Binotto. Allora, secondo me la cosa principale da dire è che Binotto è stato incoerente in queste dichiarazioni perché lui ha avuto la possibilità di valorizzare Leclerc in passato ma non l'ha fatto. ricordo alcune gare dove Leclerc è stato sacrificato nei confronti dei compagni di squadra. Pensiamo per esempio Singapore 2019, Brasile 2019. Ci sono stati tanti scenari dove Leclerc è stato messo da parte. Questo con l'era Leclerc Vettel al tempo. Ma anche dopo, quando è arrivato Sainz in Ferrari, sono state altre gare dove Sainz ha avuto la meglio su Leclerc nella strategia. Se ci pensiamo, per esempio anche in Monaco 2022, lì alla fine Sainz ha avuto la meglio. Leclerc più volte non è stato aiutato dal team e non è stato supportato a sufficienza anche a livello emotivo da Binotto. E questo è stato un duro colpo per me, per Charles, durante la sua carriera perché non ha mai avuto il supporto di un team principal dalla sua parte. Quando è arrivato Vasseur, io sono stato uno di quelli che ha voluto fortemente Vasseur nel team perché sapevo del rapporto che c'era tra Leclerc e Vasseur in Alfa Romeo al tempo, nel 2018. E questo rapporto si è visto poi concretizzarsi anche in Ferrari. Infatti Leclerc e Vasseur vanno molto d'accordo. Al contrario, con Binotto c'era sempre un po' di astio, c'era sempre un po' di scintille all'interno del team. Ci ricordiamo anche quando Binotto sgridò Leclerc dopo una gara successa nel 2022. Insomma, ci furono diversi scenari dove Binotto si è messo in contrasto con Leclerc e fare queste dichiarazioni ora, dire che Leclerc dovrebbe essere al centro del progetto, secondo me è qualcosa di sbagliato perché è incoerente, nel senso che è vero, Leclerc dovrebbe essere al centro del progetto di Ferrari, ma è facile dirlo ora, quando non sei più team principal. Dovevi farlo quando lo eri e non mettere al centro del progetto Sainz o mettere al centro del progetto un Vettel che ormai era la fine della sua carriera in Ferrari. Secondo me bisognava dare priorità al giovane emergente, il giovane talento che in quel caso era Leclerc. Al contrario, si è sempre messo in secondo luogo, in secondo piano, Leclerc per valorizzare di più il compagno di squadra. Anche se ci pensiamo alla scelta dell'ingegnere di pista, Riccardo Adami con Sainz, Riccardo Adami è l'ex ingegnere di Vettel che era prima in Ferrari e l'ha preso Sainz dopo. Perché non è andato a Leclerc in quel caso? Riccardo Adami è un ingegnere di esperienza in Ferrari, ci lavora da tanti anni, avrebbe fatto molto comodo a Leclerc sicuramente negli anni dell'era di Binotto, però l'ha andato a Sainz. Insomma, ci sono stati tanti scenari dove Leclerc si è messo in secondo piano e dire ora che Leclerc dovrebbe essere messo al centro del progetto è un po' ipocrita come dichiarazione secondo me. Ora voglio farvi sentire cosa ha detto Sainz sulla decisione di prendere Hamilton in Ferrari e sulle parole di Binotto. Sainz per leclerc e Hamilton, non sei che sensazione ti ha dato, va a avere su morbillo, su cosa, no? Bueno, due pilotazos che sicuramente lo passano bene di miei compagni di equipi. E' un po' di immagini di Binotto, ha detto che non abbia elegito Hamilton, che Leclerc è il che ha il talento. E sostanzialmente Sainz ha detto che ha la sua opinione sulla decisione fatta da Ferrari di prendere Hamilton Ha detto che sia Hamilton e che Leclerc sono piloti straordinari Però non vuole dire la sua opinione ora sulle parole dette da Binotto Ma la dirà magari più avanti, probabilmente quando uscirà completamente dalla sfera a Ferrari Però preferisco questo atteggiamento di Sainz che comunque si è tenuto per sé questa opinione rispetto a Binotto Invece che ha un po' voltato le spalle, se vogliamo, a Ferrari E anche sul suo percorso fatto in Ferrari Perché si è un po' smentito da solo Ha detto Leclerc dovrebbe essere al centro del progetto Ma quando ci sei stato tu, com'è che l'hai valorizzato Leclerc? Questa è la vera domanda da fare a Binotto Detto questo parliamo anche di quello che invece ha detto Vasseur In merito alla decisione di prendere Hamilton E come si è sbilanciato a riguardo su le parole dette dalle Clerc a Vasseur Prima di prendere il pilota inglese Vasseur ha detto che Leclerc non è mai stato arrogante E mi ha spinto nel firmare Hamilton in Ferrari Infatti Vasseur ha dichiarato che nelle dinamiche interne della decisione del compagno in squadra Lo stesso pilota Monegasco è stato coinvolto Perché gli ha chiesto Vasseur a un rapporto talmente diretto con Leclerc Che gli ha detto vuoi Hamilton nel team? Sì o no? E lui non è mai stato arrogante Ha sempre detto che è un pilota che lavora tanto E sì, alcune volte fa degli errori anche Charles Però fa parte del processo di crescita Questo è quello che ha detto Vasseur E quindi Leclerc è stato informato delle negoziazioni di Hamilton Ci ricordiamo anche nel 2023 che se ne parlava tanto Beh ha cercato di favorire questo ingresso di Hamilton nel team Del 7 volte campione del mondo E Charles è sempre stato d'accordo con questa decisione Questo è fondamentale da dire E per questo mi ha spinto tanto a far sì che succedesse questa cosa Di Hamilton che arrivasse in Ferrari E' importante avere una visione comune Questo è quello che ha ribadito anche Vasseur Perché il team deve essere coeso Però il fatto di prendere Hamilton nel team Non è un voltare le spalle a Leclerc E non metterlo al centro del progetto Perché Leclerc è stato coinvolto nella decisione E forse questo non lo sa Binotto Perché Binotto al contrario Non ha coinvolto Leclerc Nella decisione di prendere Sainz nel team Ci ricordiamo come avvenne quello scenario Vettel venne lasciato a casa Tra l'altro neanche in maniera molto carina Ci ricordiamo come nel 2020 Fu avvisato Scusate nel 2021 Fu avvisato di questa cosa E però un po' con una chiamata fredda Da parte di Binotto E venne scelto C'era la decisione tra Richard e Sainz Venne scelto Sainz nel team Però questo per farvi capire Che il clima in Ferrari Ora come ora È molto più disteso Di quando c'era Binotto in Ferrari Quindi è importante a sottolineare questa cosa E ha detto ancora Vasseur Che pensa che sia essenziale Avere un buon rapporto E non parlare solo di Se la macchina è sotto sterza O altre cose tecniche Ma avere passione E avere un rapporto bilanciato E quindi avere un buon Una buona atmosfera attorno È cruciale per avere dei buoni risultati Questo è quello che ha detto Vasseur Quindi Quindi ha detto che non era molto difficile In realtà Ferrari È sempre stata d'accordo Con la decisione Di prendere Hamilton E ora Tutte le stelle Si sono allineate Questo è quello che ha detto Vasseur E ora bisogna Però puntare alla vittoria Sono convinti Di riuscirci Nel futuro Anche perché Hanno tutti gli ingredienti Per farcela Questo è quello che ha detto Vasseur Sulla decisione di Hamilton Anche perché Secondo me Adesso che hanno preso Hamilton in Ferrari Hanno la macchina competitiva Leclerc È comunque maturato Perché Voglio aprire una parentesi È vero Che Il titolo per esempio Nel 2022 Non Non sono riusciti a conquistarlo In Ferrari A causa della macchina Però anche Leclerc Aveva commesso degli errori Ci ricordiamo il GP di Francia Ci ricordiamo a Imola Insomma Sono stati diversi errori Nella stagione Che hanno poi compromesso Il risultato finale Secondo me Gli errori di Leclerc Hanno pesato molto meno Rispetto a quanto La macchina Faticava La Ferrari Nei confronti di Red Bull Anche a causa Della direttiva La tecnica Che è stata emanata Eccetera eccetera E anche a causa Del rapporto Con Binotto Però Adesso invece Il rapporto Col team principal È buono Tra Leclerc E Vasseur La macchina c'è Hamilton in squadra Comunque è un pilota Che ti fa crescere Il team Hamilton ha vinto Sette titoli È un pilota Che può Far bene Leclerc Per crescere ulteriormente E provare a essere Campione del mondo Ma al tempo stesso Anche Hamilton stesso Può provare a essere Campione del mondo E Vasseur Mi sembra La persona giusta Per gestire Due personalità Molto forti Come Leclerc Hamilton nel team Non è vero Che prendere Hamilton Non valorizza Leclerc Perché lo può Aiutare a crescere E provare a lottare Per il titolo Nei prossimi anni Hai due piloti Molto forti Ormai due piloti Anche di esperienza Perché anche Leclerc Ormai da tanti anni Formula 1 E con entrambi E con entrambi i piloti Si può puntare A lottare Per il titolo E tra l'altro Hamilton ti aggiunge Un plus in più Se vogliamo A livello di merchandising E marketing E anche eventi promozionali Perché su quello È una cosa anche da considerare Per Ferrari stessa Se Hamilton Fa le promo Se Hamilton Fa le pubblicità Di Ferrari Ti dà un valore aggiunto Anche sulle vendite Soprattutto all'estero Penso in Inghilterra Penso in America Insomma Hamilton è una figura Conosciuta a livello mondiale Fa molto bene a Ferrari Anche come ecosistema Quindi questa è la visione La mia visione in merito Però ditemi anche la vostra Nei commenti E per chi dice Che Hamilton ormai È troppo vecchio Per la Formula 1 Beh secondo me Parlano i risultati Alla mano Abbiamo visto anche questa stagione Hamilton È comunque fortissimo E E dimostra di essere Un sette volte campione del mondo Parliamo anche brevemente Di Mick Schumacher Perché Binotto Si è sbilanciato a riguardo E ha detto che stanno valutando Il pilota tedesco Per prenderlo nel team Secondo me Schumacher Si è un po' giocato La sua chance In Formula 1 Con la sua avventura In us Che non ha ripagato Se vogliamo Per i tanti incidenti commessi Che hanno valorizzato di più Se vogliamo Magnussen Che era un pilota di esperienza Che commetteva meno errori Però ci può stare Dargli un'altra chance Io forse non l'avrei data Personalmente Però questo è quello Che vuole fare Binotto E L'ha incontrato Ci ha parlato Detto anche che Lo conosce da tanto tempo Perché faceva parte Della Ferrari Driver Academy E sa le sue qualità E sa le sue qualità I suoi vantaggi Se vogliamo E è uno dei nomi Che hanno in mente Se hanno Possono prendersi Il lusso Di non affrettare La scelta E quindi aspettare Perché tutti i team Hanno già deciso La loro line up E ci sono due opzioni Principali Quindi Vediamo un po' Devono un attimo Decidere se Valorizzare Questa scelta O un'altra È un pilota Giovane Talentuoso E può Accompagnare L'avventura In Audi Sauber Fino alla vetta Questo è quello Che ha detto Binotto Ripeto Secondo me È una scelta Che è un po' Azzardata Visto il suo passato Magari In Audi Sauber Prenderei un pilota Più di esperienza Un po' come Ha fatto la scelta Haas In questo caso Anche perché Ti serve un pilota Che conosca bene La formula 1 Per spingerti al top Non un pilota giovane Un pilota giovane Lo prenderei Per un team Junior Tra virgolette Potrebbe essere Williams Racing Bulls Ma non Audi Sauber Che non ha Nessun team Grande da affiancare Non so se È chiaro Questo concetto Quindi Non sono tanto d'accordo Con questa decisione Avrei preso piuttosto Un altro pilota Più di esperienza Un'altra cosa da dire È che c'erano le opzioni Di Bortoleto O Colapinto Che invece state escluse Come opzioni Colapinto ragazzi Ha dimostrato tanto Essendo comunque Un pilota giovane Quindi se vuoi puntare Su un pilota giovane Audi Sauber Poteva puntare per esempio Su Colapinto Che ha già dimostrato Qualcosa di più In Formula 1 Rispetto a Schumacher Però Comunque c'era anche L'opzione di Bottas Il pilota di esperienza Ci sta che si voglia dare Una possibilità a Schumacher Una possibilità aggiuntiva Se vogliamo E anche visto Il passato del padre Che sicuramente Influenza le scelte Del team Però vedremo Vedremo un po' Cosa deciderà Anche Sauber Detto questo Parliamo delle ultime notizie Ok È Race Week A Austin E attenzione Che l'anno scorso Hamilton E Leclerc Furono squalificati A causa Di aver consumato Troppo Lo skid block E quindi Il fondo E quindi Sono stati penalizzati Per questo Questo scenario Può anche Ripresentarsi Quest'anno Però L'asfalto è stato Rifatto Quest'anno Ci saranno Meno avvallamenti Quindi è meno probabile Che succeda questa cosa Però ricordiamoci Che il plank Era stato Si era consumato Di più Di quanto dovuto E c'era stato C'è un Sono 10 mm Consentiti di consumo Più Meno 0.2 mm E se si va A sorpassare Questa Diciamo Questo range Limite Beh si va A intaccare Con una penalità E in questo caso E sta la squalifica Quindi Hamilton e Leclerc La macchina di Hamilton E Leclerc Non hanno incontrato Non hanno rispettato I requisiti Tecnici E per questo Sono stati squalificati Dalla gara E con Hamilton e Leclerc Squalificati Norris poi È arrivato Secondo E invece Sainz È arrivato Terzo Quindi Attenzione a questo tema Qui sul fondo Perché Austin è uno di quei tracciati Dove si consuma di più Il fondo Quindi attenzione Per i piloti Che devono Soprattutto i team Devono fare attenzione A questo tema Che è cruciale Voglio ricordare Anche che Il 12 ottobre Del 2003 Schumacher Vinse a Suzuka Il sesto titolo Ehm Divenne sei volte Campione del mondo In Formula 1 E quindi ci tengo a ricordare Questo anniversario Mentre il 12 ottobre Dieci anni fa Quindi del 2014 La Mercedes Divenne campione Del mondo Dei costruttori Per la prima volta In Formula 1 Quindi un evento Più unico che è raro Anche questo Importante a ricordare Sappiamo che ci saranno Anche altre Tre sprint race Nelle prossime gare Una sarà appunto A Austin L'altra in Brasile L'altra in Qatar Quindi attenzione Che arrivano i weekend Con la sprint Dove ci sono ancora più punti Più 24 punti disponibili Da conquistare Nel campionato E per questo Verrà influenzata molto Anche la classifica Sia piloti che costruttori Tsunoda Nelle prossime gare Si gioca Il ruolo Di possibile Seconda guida Di Red Bull Nel 2025 Questo l'ha detto Helmut Marco Finalmente Per la prima volta Viene considerato Realmente Tsunoda Per prendere il posto Di Perez Nei prossimi anni Ovviamente Si giocherà Sia con l'Oson Che con Perez Stesso Questa possibilità Vedremo Chi riuscirà A convincere di più Red Bull Per prendere il secondo posto Accanto a Max Nel 2025 Sainz Si è sbilanciato Su dove Ferrari Può vincere Quest'anno Possono vincere In Messico E Las Vegas Che sono delle piste Da basso carico Se vogliamo Specialmente Las Vegas Poi Messico C'è anche la questione Altitudine Però ha detto Che vedendo Come si è comportata Ferrari Nella seconda parte La stagione Dopo la pausa estiva Quelle sono le piste Dove la Ferrari È più favorita Orne si è sbilanciato Anche sulla questione Di tanti ingegneri Che lasciano Red Bull Dicendo che Per esempio Anna Smith Può aumentare Di grado E magari fare Un suo percorso In Red Bull Per aumentare Ancora Le sue responsabilità All'interno del team Di Milton Keynes Questa è un po' Secondo me Una Paraculata Lasciatemi Passare questo termine Per Giustificare il fatto Che tanti ingegneri Tanti tecnici Lasciano Red Bull Per andare in altri team Sintomo anche Che siccome Il clima in Red Bull È molto teso Però Orner Cerca un po' Di tenere insieme La situazione Ma in maniera Molto difficile Ultimissima cosa La FIA ha detto Che c'è una barriera A 25 gare All'anno In Formula 1 Non si possono sorpassare Il numero Di gare Sia perché È difficile Gestire dal punto Di vista logistico E anche per i team E per i piloti Tutti i meccanici Che devono Spostarsi in giro Per il mondo Dal punto di vista logistico È davvero difficile A gestire Più di 25 gare Sarebbero troppe E a maggior ragione Se si aggiungessero Dei team in Formula 1 Sarebbe molto difficile A gestire Questa situazione Quindi c'è un limite Imposto dalla FIA A 25 gare All'anno Ditemi nei commenti Cosa ne pensate Della situazione Hamilton in Ferrari Delle dichiarazioni Binotto Quelle fatte da Sainz Di quelle fatte anche Da Vassur In merito All'aver parlato Con le Clerc Di questa decisione Ditemi anche Della vostra Su tutti gli argomenti Di cui abbiamo parlato In questo video Sono curioso Di leggere e rispondere A tutti quanti Vi ricordo anche Di lasciare un like Di iscrivervi Attivare le notifiche Per non perdervi Nessun video Che esce qui sul canale Ogni giorno Andiamo a vedere Tutte le notizie A tema auto E Formula 1 E nello specifico A tema Ferrari Vi lascio altri video Correlati qui E il logo del mio canale Qui al centro Per iscrivervi Qui da Rastro è tutto Ci vediamo A un prossimo video A un prossimo video